cari amici come dice il titolo a ng in radio trani radio staffetta pronta su facebook e su instagram poi ora che sto registrando il video nel momento in cui lo caricherò vi metterò comunque gli indirizzi internet per andare a visitare ovviamente mettete un bel mi piace su facebook e aggiungete il vostro follower su instagram quindi diciamo un po il palinsesso tra virgolette social di radio staffetta trani si amplia quindi come vi anticipai già ieri due giorni fa quindi podcast tra cui vi ricordo che oggi e domani ce ne saranno dei nuovi e altri ovviamente man mano nel corso del tempo quindi spreaker spotify facebook e instagram quindi mi raccomando seguiteci noi siamo qui a vostra disposizione aperte a qualsiasi tipo di proposta e anche vado a dire qualsiasi tipo di consiglio e ci mancherebbe altro per quanto riguarda come vi dissi già ieri quindi oggi credo dovrebbe dovrebbe deve uscire il secondo podcast della radio domani ci sarà il terzo poi io penso poi domenica c'è tra virgolette una pausa e ovviamente ora non mi ricordo bene ma penso che anche settimana prossima ce ne saranno degli altri come nel tempo a venire quindi cari amici spero che il prodotto se avete sentito su sprigare il primo podcast vi stia piacendo state apprezzando il nostro impegno che per carità siamo all'inizio ovviamente c'è tutto l'endusiasmo del momento come anche è giusto che questo nostro progetto di radio staffetta dobbiamo essere noi stessi che siamo un gruppo abbastanza compatto di giovani under 30 consapevoli che iniziamo bene ovviamente poi dobbiamo proseguire altrettanto bene quindi io vi saluto vi auguro un buon pranzo siamo agosto sta volgendo al termine quindi speriamo ovviamente che quando riguarda la situazione covid che anche se si sta risollevando un po' possa rientrare ovviamente come detto anche dalle nostre forze politiche governative non ci sarà un secondo lockdown e voglio dire ci mancherebbe altro il resto speriamo anche per quanto riguarda no all'aspetto della scuola che ragazzi siano ragazzi e tutto l'ambiente scuola sia responsabile quindi attento anche ai minimi particolari quindi i saluti ora sono sono veri quindi vi ricordo nuovamente spreca spotify instagram e facebook grazie a voi tutti un buon proseguimento di giornata buon pranzo e alla prossima ciao